Quando cerchi una ricetta solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuore e una cappa è il posto giusto Ed ecco gli ingredienti per il nostro finto panettone Sacher Allora, delle arance candite, io le ho prese così a fette Una marmellata di arance che non sia troppo amara Ho preparato tre basi per torta del diametro di 16 cm Trovate la ricetta in alto a destra dove ce l'hai col pallino Perché è una base torta che abbiamo già fatto sul canale Quindi non vi faccio vedere il procedimento L'unica accortezza è la teglia molto piccola E farne il quantitativo di una torta Quindi 300 grammi di impasto, diciamo così In tre volte, quindi ho questa E ho questa che ho appiattito ponendola dalla parte della curvetta Bella calda sul piano da lavoro E ne ho lasciata una sola con Vedete l'andamento a curva che sarà la testa del nostro finto panettone Poi ci occorreranno tre glasse Io uso questa pronta che trovate in tutti i supermercati Innanzitutto io che ho la glassa pronta La metto a bagnomaria a sciogliere Per decorare io userò della carta forno Dello spago E poi le foglie di un'arancia bio E le arance candite che avete visto prima Iniziamo subito Prendiamo la nostra marmellata E frulliamola Non devono rimanere più pezzettini di arancia Il frullare la marmellata non è un in più Ma è necessario perché renderà la marmellata bella fluida Quindi non farà grumo sotto la glassa al cioccolato In più la scorzetta che si udirà La parte dolce porterà uno sprint veramente buono Che non si percepisce lasciando le scorzette intere La nostra marmellata è diventata semiliquida Lasciamola da parte E adesso taglio ogni base in due cerchi E lì lascio uno sopra l'altro Perché questi due cerchi devono combaciare Ognuno con la propria torta Cerco un piattino che abbia la stessa circonferenza delle mie basi Lascio la prima doppia Soltanto la prima E verso sopra La nostra marmellatona Mamma mia Spalmo Così generosamente Io non uso bagna per questa torta Perché voglio che sia una torta che possa durare nei giorni Se mettete la bagna consumatela Dopo pochissimo Perché se no Ammolla troppo Massimo due o tre ore No due o tre ore no Ma due giorni sì Metto la prima base E anche sulla cupolina Versiamo la nostra arancia Ho protetto il piano da lavoro con della carta forno Per facilitarmi poi le operazioni di pulizia successive Prendo la glassa Piano piano la verso dapprima a coprire i bordi La faccio colare Non me ne serve tanta sui bordi Me ne serve poco Perché tanto poi i bordi andranno coperti Voi mi direte come Eh eh Ora ve lo faccio vedere Colata la glassa sui bordi Adesso Coprite bene La parte superiore E automaticamente Lei si spanderà Su tutta la torta Adesso È il momento Della nostra carta forno Piegate un foglio di carta forno In tre parti E con la glassa ancora bagnata Avvolgiamo il nostro panettone Io avvolgo anche il piatto che lo porta Perché non voglio che si veda Prendiamo dello spago E avvolgiamolo Puoi lasciare Per fare contenere Il nostro panettone Se lo spago si sporca un po' di cioccolato Non fa nulla Prendo le mie foglie di arancia Lavate 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 E bio Ovviamente Metto per guarnire E a simulare un po' La bete Che non ho Sul balcone Due rametti di rosmarino Prendo le mie arance candite E con un po' di glassa E con un po' di glassa Che raccoglierò Così Dal pavimento Perché non si spreca nulla Le attacco E i dulcis in fundo Perché quest'anno non sia come quello passato Ragazzi Due peperoncini Non ci stanno affatto male Bravissima Et voilà Il nostro panettone è pronto Ho inserito anche una fettina qui dietro Per chi la volesse dei commensali Forse metterò anche una fogliolina di arancia Bene Lo vedrete nelle foto Lo vedrete nelle foto Adesso lo metto su un'alzatina Taglialo Taglialo Mangiamolo No Ora lo metto su una bella alzatina E poi vi faccio le foto E buon finto panettone Il sacchertone Il panettone buono Per il capodanno Ciao 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 準